Buongiorno e benvenuti, benvenute, questo è un percorso che nasce un po' così in risposta a una serie di attività formative che insieme a Forma abbiamo iniziato a fare già da diversi anni, rivolte alla PA quindi, sul tema della comunicazione, in pratica sulla comunicazione digitale, ovvero in particolare c'è un modulo che facciamo da diversi anni che è dedicato proprio alla PA, alla digitalizzazione della PA, quindi il tema della comunicazione, i social network, le nuove tecnologie e quindi ovviamente non poteva mancare questo contenuto che riguarda un'innovazione, tra virgolette, rispetto alle unità di comunicazione che esistono alla PA, ma un'innovazione relativa, nel senso che poi come vedremo, ripercorrendo un attimino le tappe che hanno reso una delle forme più utilizzate adesso di comunicazione, il podcast, è in realtà iniziata parecchio tempo fa, quindi si parla più o meno dell'inizio degli anni 2000 come modalità prevalente di condivisione di contenuti. Le motivazioni per cui in questo momento la PA è interessata a qualunque forma innovative di comunicazione le conosciamo già, per esempio immagino che conosciate le piattaforme che dal 2017 ad oggi si sono proposte di accompagnare questo progetto di innovazione relativa alla PA, mi riferisco per esempio all'associazione PA Social che è abbastanza nota e anche qui si parla da tempo di una legge 151, 150 bis perché questo dovrebbe riformare un po' i temi che riguardano la comunicazione e quindi diciamo che lo strumento podcast diventa in questo contesto un veicolo di contenuto che è sempre più maggiormente corrispondente alle esigenze che hanno la maggior parte dei cittadini o del pubblico a cui ci si rivolge, mi riferisco per esempio al sottotitolo del nostro percorso che è quello da radio on demand, che vuol dire che in pratica il contenuto oggi su qualunque tipo di piattaforma venga erogato, pensiamo a Netflix piuttosto che a Prime Video eccetera, viene erogato nella forma on demand, perché? Perché così ognuno ha i tempi in cui poterlo fruire senza che sia diciamo all'interno di un palinsesto, quindi il podcast è uno strumento che per certi aspetti rispetto a quello che è stato fatto per esempio in passato con i video, non so gli esempi più celibili usi di video nella PA sono per esempio l'Inail che con la figura di Napo che è questo cartone animato con cui si veicolano i temi della sicurezza a partire dal 2007-2008 è iniziato proprio coincidente con la nascita di YouTube a veicolare contenuti di grande successo, cioè si parlava al tempo di milioni di visualizzazioni, contenuti che riguardano il tema della sicurezza e quindi voglio dire una cosa piuttosto insolita, non perché non è diciamo il tema prevalente. Ecco rispetto a tutto ciò, quindi perché il podcast? Perché rispetto per esempio al video in questo momento incarna maggiormente il prototipo di fruitore tipo che incontra i suoi bisogni in questo tipo di contenuto, pensiamo banalmente alla differenza tra un video su YouTube oppure un podcast, pensiamo purtroppo a quello che sta accadendo, dico purtroppo perché io sono ancora della vecchia scuola che ama leggere sulla carota, però pensiamo per esempio al successo che stanno avendo gli audible che quindi rispetto al video ci consentono di leggere un libro mentre guidiamo la macchina, se ci fosse un video che ce lo racconta si augura che uno non solo guardi ovviamente mentre guida la macchina, no? Quindi il contenuto audio uno è on demand quindi cioè possiamo ascoltarlo come quando vogliamo noi e poi essendo audio cioè ci consente di dedicare la nostra attenzione anche mentre stiamo facendo altre cose a differenza del video oppure di un contenuto che invece va letto non posso leggere mentre guido ma posso ascoltare mentre cammino per esempio non posso leggere oppure sì però insomma con una certa fatica e posso ascoltare oppure addirittura proprio per rispettare un po' il requisito di essere ormai nel bene e nel male, no? Perché bene perché siamo diciamo abbiamo la possibilità di essere, di avere accessibilità ai contenuti a 360 gradi male perché viene meno quello che si chiama un po' il diritto alla disconnessione cioè di avere ripristinare un po' in ottimi momenti di privacy però per esempio se vogliamo nuotare mentre ascoltiamo un podcast adesso lo possiamo fare perché esistono delle cuffiette che possono essere messe anche in acqua quindi volendo uno ha la possibilità di essere informato o formato a seconda del tipo di contenuto in qualunque ora del giorno facendo qualunque altra cosa con il podcast quindi questo è stato un po' il motivo per cui abbiamo pensato di portare avanti un po' il lavoro formativo cioè cercando di condividere contenuti che riguardano il tema della digitalizzazione della PA che poi ovviamente si sta portando avanti in modo significativo ci sono degli esempi concreti di successo crescente cioè una maggior parte di PA sempre più presenti nel mondo digitale in vari modi anche con i podcast e quindi appunto l'idea era quella di condividere in questo primo webinar un po' i contenuti di massima rispetto a quello che è l'opportunità legata a questa nuova modalità di comunicazione vedere che tipo di vantaggi può portare, come si fa, qual è il significato che si può dare a questa modalità di comunicazione soprattutto quali contenuti condividere che è un po' anche il tema prevalente perché come ognuno avrà avuto modo di sperimentare direttamente la tecnologia è sempre più user friendly ha un'interfaccia sempre più gestibile, sempre più semplice per chi la usa ovviamente utilizzarla, cosa che non è invece per chi la crea quanto più facile è per noi usarla, tanto più difficile il lavoro di chi c'è dietro per rendercela facile però il problema se per esempio oggi vedremo per esempio come creare un podcast come condividerlo, come veicolarlo distribuito sulle piattaforme cioè è un problema che da un punto di vista tecnico è piuttosto gestibile quello che come per esempio pubblicare dei contenuti su un social network come mandare un messaggio whatsapp addirittura come fare un sito web ormai ci sono delle applicazioni che ci consentono di fare tutto questo in pochi clic, in pochi minuti cioè quando facciamo i corsi per esempio che riguardano il ruolo della PIA sui social la parte tecnica di come pubblicare un post quasi viene bypassata perché ovviamente non è quello il problema chiunque è in grado di pubblicare un post su Instagram piuttosto che su LinkedIn eccetera il problema non è come pubblicare ma cosa pubblicare cioè quindi i contenuti che dobbiamo condividere perché ci sono una serie di caratteristiche che rendono il contenuto più o meno attraente cioè più o meno duraturo per esempio se uno degli scopi è quello di aumentare l'interazione con i cittadini per esempio oppure intrattenere oppure informare oppure dare dei consigli insomma ne vedremo ce ne sono diverse tipologie dobbiamo ahimè confrontarci con un problema che riguarda le nuove generazioni in particolare ma anche un po' quelle che sono venute prima cioè il problema del calo drastico della soglia minima di attenzione cioè ci sono persone che sostengono che i ragazzi per esempio delle scuole siano arrivati agli 8 secondi cioè quindi se un contenuto in 8 secondi non riesca non riesce a catturare l'attenzione uno passa oltre quindi guarda qualcos'altro quindi per esempio vedremo che tipo di contenuti poter condividere se vogliamo che i contenuti vengano vengano ascoltati nel nostro caso vengano seguiti quindi che ovviamente le finalità della PIA questo webinar è tarato sulla PIA quindi non hanno come scopo quello di fare marketing o vendere dei servizi o vendere dei prodotti però quando parliamo di engagement che quindi è quello che vale anche per i podcast cioè in pratica vedremo che anche i podcast sulle piattaforme che vedremo hanno gli insight che sono gli stessi che ci sono su YouTube oppure sui social network cioè cosa sono gli insight? sono gli insight o gli analytics cioè le metriche che ci dicono se il contenuto che abbiamo condiviso nel nostro caso un audio è stato ascoltato quanto è stato ascoltato da chi, dove per quanto tempo è stato ascoltato manualmente se i nostri podcast durano 15 minuti e vengono ascoltati per 2-3 minuti evidentemente c'è qualcosa che non va cioè ovvero il contenuto forse non è attrattivo o poi vedremo anche altre parti perché ok il contenuto è importante ma anche la forma è importante io ho visto centinaia di persone provare a fare podcast perché ripeto cioè fare podcast è facile non ci vuole nulla ora noi vedremo delle piattaforme ma li possiamo fare camminando per strada con un telefono cioè chiunque ha un registratore di suoni sul telefono si mette le cuffiette parla mentre cammina e registra un podcast poi dopo lo carica sulla piattaforma non è un problema tecnico il problema è il contenuto quindi cosa condivido? quindi ci sono delle tecniche che ci aiutano a comprendere per esempio come è fatta la struttura di un podcast per esempio principalmente si dice questo per quanto riguarda la PA cioè usciamo rendiamoci presenti pubblicamente creiamo un canale nostro tematico come potrebbe essere Telegram oppure creiamo una pagina vi dicendo oppure creiamo uno show quindi un podcast con degli episodi con una certa continuità benissimo però si dice esserci è importante perché riflette un po' le motivazioni di cui parlavamo prima cioè il mondo evolve le modalità di comunicazione sono sempre più innovative la PA deve seguire questa evoluzione per poter incontrare gli interessi i gusti le modalità di dialogo per poter valente questo l'abbiamo capito però si dice è importante esserci ma per esserci bisogna esserci bene bene che vuol dire vuol dire che se per esempio nei nostri podcast gli insight cioè le metriche ci dicono che su 15 minuti in media le persone ne ascoltano 5 vuol dire che c'è un problema c'è un problema di contenuto oppure di forma quindi sul contenuto vedremo per esempio come creare dei contenuti delle idee che possano essere di interesse per il nostro pubblico come veicolare attraverso una struttura una cosiddetta scaletta vi farò vedere anche un nuovo strumento con cui è possibile creare dei contenuti innovativi che è l'intelligenza artificiale che va usata con cautela nel senso che poi se se ne abusa diventa un problema però è un metodo attraverso cui è possibile creare dei contenuti ma poi per quanto riguarda la forma invece valgono le stesse cose che dicevamo prima a proposito della scelta del contenuto cioè esserci esserci bene ovvero se sentite che ne so una trasmissione alla radio normalmente la qualità del suono che ci arriva è di buon livello quindi uno quando si parla di forma si intende la dotazione minima necessaria perché possa avere una qualità media poi ovviamente non dobbiamo essere in grado di trasmettere un concerto alla scala però per esempio un'attrezzatura di medio livello è quello che contribuisce a rendere accettabile la forma poi vedremo anche altre cose che sono per esempio le modalità con cui lo speaker cioè chi parla veicola i contenuti quindi non bisogna essere degli attori con un corso di edizione alle spalle però vedremo che per esempio il modo con cui utilizzi la voce visto che c'è anche la versione video dei podcast ma parleremo della versione audio in questo caso quindi uno ascolta non vede quindi ciò che rende più attrattivo un contenuto oltre al fatto che il contenuto possa essere di interesse che la qualità del suono sia buono che ci siano degli effetti magari una sigla iniziale una sigla finale eccetera è la qualità della voce dello speaker quindi vedremo che la voce non è proprio uno strumento così trascurabile in un podcast quindi ripeto non è necessario fare un corso di edizione ma sapere per esempio che esiste la possibilità di impostare la propria voce di modo che sia un po' più attrattiva è un altro elemento che rende diciamo più interessante e può contribuire a far aumentare la soglia di attenzione magari dai primi tre minuti ai primi ai primi dieci quindi magari poi uno si stacca lo stesso però diciamo i fattori che influenzano positivamente quello che io chiamo engagement che vuol dire un po' il coinvolgimento quanto uno riesce a rimanere legato ai contenuti che condividi quindi a seguire con una certa ricorsività i nostri episodi cioè allora è l'insieme di questi fattori qua quindi il contenuto e la forma e ovviamente l'assenza di improvvisazione perché anche questo poi vi chiederò il vostro rapporto così ci conosciamo un attimo e non mi sono presentato ma adesso lo farò ho preso un po' al volo diciamo il tema per introdurre un po' i contenuti che vedremo quindi finisco questa breve introduzione dicendo che normalmente in questi webinar utilizziamo tre modalità didattiche per così dire intanto quando nella prima che è quella frontale quindi adesso tra un po' io inizierò a proiettare delle slide che probabilmente avrete già avuto o se nel caso ci fossero qualcuna di queste che non è compresa in quelle che avete la integreremo quindi il materiale didattico vi verrà dato e in queste presentazioni qua tratteremo la parte contenutistica ed è la prima modalità che è quella così frontale poi ce n'è un'altra le altre due sono opzionali diciamo che a volte possiamo fare a volte no però fanno parte un po' diciamo dello stile con cui di solito si gestiscono questi webinar che è ispirato ai principi del learning by doing cioè che in pratica facendo delle cose poi si imparano meglio quindi la seconda modalità è un po' una forma di confronto rispetto ai temi come quello che tra pochi minuti faremo quando vi chiederò qual è il vostro rapporto con il tema del giorno cioè con il podcast mi chiederò per esempio se volete condividere la vostra esperienza se fate podcast come li fate se non li fate perché se vi potrebbe interessare qual è la parte diciamo del podcast come fruitori se per esempio li ascoltate che vi piace di più domande così così entreremo un po' nel tema e poi l'ultima parte ritorno alle modalità didattiche è quella in cui che non credo utilizzeremo oggi però a volte si fa quella in cui invece riusciamo a fare delle esercitazioni per esempio nei corsi sui social media spesso le facciamo anche noi oggi parleremo di calendario e piano editoriale per programmare i podcast ovviamente se dobbiamo garantire una certa continuità si possono creare dei contenuti che poi condividiamo con un riferimento nel tempo di modo che lo riusciamo a gestire meglio quindi se non so oggi o pomeriggio libero nel registro due da 15 minuti ma poi li faccio uscire lunedì prossimo e me ne ha quelli di programma insomma questo qua è la parte del calendario editoriale a volte negli altri gruppi utilizziamo le stanze di breakout che abbiamo qua su Zoom per fare delle esercitazioni in gruppo in cui magari si possono fare delle prove per utilizzare un'applicazione oppure registrare un podcast questa è la modalità prevalente che è questa di rispondere che è la di rispondere che è la di rispondere in cui qui è la dell'anima che è la di rispondere Grazie a tutti